Giuseppe Murabito nata d'Africo il 15 agosto 1934 noto anche come utiradritto in calabrese significa sparatritto come a dire è un'ottima mira soprannome che eredita dal padre l'andrina Murabito è una delle più potenti famiglie malavitose della Calabria il paese d'origine è Africa nella Locride dal quale vengono gestiti affari illeciti fino nel nord Italia e anche all'estero il capo fino all'arresto nel 2004 è stato proprio Giuseppe Murabito utiradritto era ricercato numero uno tra i lati tanti calabresi dell'andrangheta ed è stato paragonato a Bernardo provenzano di Cosa Nostra ma in Calabria le endrine sono diverse dai mandamenti di Cosa Nostra che prendono il nome dal luogo di provenienza le endrine sono gruppi familiari famiglie letteralmente anagrafiche fatte di consanguini vere e proprie famiglie due o tre di queste endrine che si trovano nello stesso luogo formano una locale la sua struttura è formata dal capo locale colui che ha potere di vita e morte su tutti poi c'è il contabile una sorta di ministro dell'economia della locale stessa poi c'è il crimine come se fosse un ministro della difesa colui che organizza omicidi o la difesa se si viene attaccati dalle altre endrine prima di entrare a far parte dell'andrangheta si è contrasti onorati cioè un soggetto che non è affiliato all'andrangheta ma è un favoreggiatore che sta sotto studio dell'andrangheta perché una volta che gli sarà permesso di entrare a parte dell'onorata società verrà presentato da sette endranghetisti del quale uno garantirà per lui con la sua vita e diventa così un affiliato africo è un piccolo paesino sull'aspromonte lungo la statale 106 un paese di 3.300 abitanti che dopo l'alluvione viene ricostruito in fretta sul mare dopo che quello in montagna è stato distrutto nel 1951 un paesino povero del dopo guerra ed è qui ad africo che negli anni 50 giuseppe morabito entra a far parte dell'andrangheta a circa 20 anni di età un tipo molto svelto e deciso in quel periodo ad africo la locale che comanda è formata dall'endrine dei morabito palamara bruzzaniti e giuseppe morabito ha sia le conoscenze che le capacità giuste ed entra così nella sua andrina diventando da contrasto onorato appicciotto è un giovane ventenne senza titolo di studio incorto però con una grandissima intelligenza e furbizia criminale nel 1952 la prima denuncia per occupazione arbitraria di immobili e danneggiamento posto abusivo di armi e lesioni personali è l'inizio della sua carriera criminale tra il 1950 e il 1960 l'andrangheta comincia a mettere radici più forti di quelle che aveva e comincia ad espandersi oltre il proprio territorio e si insidiano nell'agricoltura e nell'edilizia e gli affari cominciano a metà anni 60 a diventare grandi i soldi sono tanti derivati dagli appalti il pizzo sulle attività contrabbando di sigarette ma nel mezzo anche le faide tra andriche le famiglie più importanti erano quelle dei viromalli di don mombo viromalli nella piana di gioia tauro poi c'era don mico tripodo a reggio calabria e la terza quella più potente di quegli anni quella di uzzintoni antonio magri il quale aveva aggancio a cosa nostra deciliana e rapporti anche con gli stati uniti il canada e l'australia ma uzzintoni non piacevano nella droga nei sequesti di persona e questo farà la differenza negli anni a venire nel frattempo giuseppe morabito nel 1967 viene accusato di essere il mandante della strage di logri venendo assolto poi nel 1971 la strage di logri era il 23 giugno del 1967 a logri nella piazza del mercato alle 7 e 30 del mattino quando spuntano a giulia bianca con quattro persone a bordo armate di mitra pistole e fucili scendono e sparano al banco della frutta individuato dai killer e uccidono tre persone tra cui domenico cordì il luogo tenente gli antonio magri boss della logri che era l'obiettivo principale della strage vennero accusati pezzi da 90 dell'andrangheta di quei tempi ma poi tutti assolti per insufficienza di prove lo stesso per morabito udiradritt durante il periodo dal luglio del 1970 fino al febbraio del 1971 si assistette a sommosse popolari a reggio calabria per la destinazione del capoluogo della calabria che voleva essere indirizzata a catanzaro infatti questo avvenne tramite l'entrata in vigore della costituzione della repubblica italiana nel 1948 e l'italia introdusse le regioni nel sordinamento giuridico così nell'estate del 1949 la commissione degli affari interni della camere dei deputati nominò un comitato d'indagine per il capoluogo a cui aspiravano catanzaro cosenza e reggio calabria verso la fine del 1953 il comitato d'indagine consegnò la relazione fatta nei capoluoghi dove si stabiliva che il capoluogo calabro fosse catanzaro ma nel gennaio del 1954 la commissione degli affari interni decise di non esprimersi e di definire la scelta del capoluogo dell'assemblea parlamentare dibattito che si riaccese proprio nel 1970 dove in quel periodo di radditto comincia a diventare un pezzo forte e insieme ad altri esponenti organizzano una serie di allianze criminali per la gestione del narcotraffico ai barbaro di platì i pelle di san luca e i pesce di bellocco di losano che fanno prosperare le loro ondrine qualche anno dopo nel 1975 viene assassinato il boss antonio madri uzzintoni con 18 colpi di pistola muore un boss che stava intralciando i nuovi boss che emergevano e avevano una vista diversa dai vecchi boss nell'inizio di una guerra le cose stavano cambiando anche in calabria c'erano anche i grossi appalti come il quinto centro siderurgico di gioia tauro che rimarrà incompiuto c'è la costruzione di un impianto chimico alla salina ionica e in più anche le assunzioni da fare nelle infrastrutture pubbliche le cosche emergenti quei soldi li volevano soprattutto i de stefano di reggio calabria ma per entrare a far parte di quegli affari si dovevano cambiare le regole della stessa andrangheta che non ammetteva di intrattenere rapporti con istituzioni e divise ma soprattutto ci volevano i soldi e il nuovo metodo individuato dagli emergenti erano la droga e i sequesti di persona proprio quello che i vecchi boss non volevano così dopo l'uccisione di magri l'anno successivo tocca a don mico tripodo nel carcere di poggio reale a napoli don mommo viromagli invece no mommo aveva accettato il cambiamento e si schierava con i de stefano era in atto la prima guerra di andrangheta dove tutti quelli contrari vennero uccisi una sorta di ricambio generazionale dentro i nuovi e fuori vecchi cambiano così gli equilibri dell'andrangheta i viromagli restano a comandare la piana di gioia tau a reggio calabria ora ci sono i de stefano i quali avevano contatti con la camorra per il contrabbando di sigarette e per la droga e nella logride don Antonio Magri non c'è più chi comanda ora in quegli anni metà dei 70 africo era rimasta quasi uguale a quella che era vent'anni prima del giovane Giuseppe Morabito dove si registravano allora 500 disoccupati mentre il resto del paese viveva sfruttato dai collocatori di manodopera grandestina oppure con la pensione di invadività lì ci sono le nuove entrine vincenti quelle che sono uscite dalla guerra e Giuseppe Morabito udirà dritto e furbo aveva capito come tirava il vento e sia adeguato e adesso nella logride tra chi comanda c'è anche lui udirà dritto ha avuto l'intelligenza di partire come andranghetista vecchio e tampo a diventare andranghetista moderno interessandosi a tutto ciò che l'andrangheta si stava interessando e di cui si interessa ancora oggi viene formata la santa una sorta di rito magico dove i santisti si riuniscono sempre in sette che possono fare tantissime cose possono entrare in contatto con uomini dello stato possono anche tradire i santisti possono diventare confidenti della polizia denunciando affiliati che diventano scomodi hanno un grande potere anche il potere sulla vita delle persone ha tre protettori la santa Giuseppe Mazzini Giuseppe Garibaldi e la marmora due di loro sono addirittura delle divise che per l'andrangheta la divisa sono infami ma i tre sono anche un'altra cosa sono dei massoni la santa cambia per sempre l'andrangheta entrambi nelle logge massoniche diventano anche gli anni dei sequesti di persona per fare soldi e prendere i termini di Gioia Tauro che servivano per il centro siderurgico e il porto di Gioia Tauro e i mezzi agricoli servivano per dirigere i lavori a partire dal 1973 con Polghetti i sequesti di persona termineranno solo negli anni 90 dall'indrine di Gioia Tauro passano a quelle della Lovete che si specializzano in questo nell'aspromonte a metà degli anni 80 africo cresce con il boom edilizio ora c'è anche un silos che produce calcio e sluzzo è il silos di Don Peppe Morabito è diventato importante ed è importante ora anche il paese di africo perché finita la guerra di indrangheta la seconda la calabria è stata divisa in tre mandamenti il mandamento centro il mandamento di reggio calabria e il mandamento di renico cioè quello della piana di Gioia Tauro e il terzo è quello ionico e c'è anche africo secondo un rapporto della dia di quei tempi l'indrangheta aveva formato una sorta di cupola stile cosa nostra siciliana e questa cupola teneva riunioni che si erano spostate dal santuario di polsi e sapete dove ad africo perché a far parte di questa cupola secondo gli investigatori c'era anche lui Morabito detto di radditto che secondo la dia era una specie di provenzano dell'indrangheta aveva fatta tanta carriera di radditto da quando era semplice contrasto onorato negli anni 50 era riuscito a mettere insieme la sua ideologia vecchio stampo insieme alla nuova guardia ormai la sua potenza va oltre la logride oltre la calabria la sua andrina si è stesa in tutto il nord Italia dove era una delle organizzazioni più potenti arrivando fino agli Stati Uniti Canada e Australia l'andrina dei Morabito diventa potente ma nel 1992 il primo provvedimento cautelare nei confronti di udiradritto che da quel momento diventa latitante fino al 2004 il giorno del suo arresto è un uomo di 70 anni il 18 febbraio del 2004 il giorno del suo arresto un uomo che dal 1982 è ufficialmente un pensionato infatti prende regolarmente la pensione di invalidità civile come operaio forestale e gli era stata assegnata anche una casa popolare ad africo dove è nato ma lui non viveva lì perché era a Santa Venere una località isolata nel cuore dell'aspromonte ed è lì che il gruppo dei Ross vanno a prenderlo quel 18 febbraio 2004 quell'uomo infatti non è solo un pensionato di 70 anni ma è un boss dell'andrangheta calabrese il boss di africo Giuseppe Morabito detto diradritto era latitante da 12 anni stava sempre molto attento nella sua latitanza se doveva incontrare qualcuno non lo faceva venire mai nel suo nascondiglio mandava lui a trovarlo quando e dove voleva lui non parlava mai neanche al telefono infatti come per bernardo provenzano la voce registrata di Giuseppe Morabito detto diradritto fino al giorno del suo arresto non esiste la sua storia la storia di Giuseppe Morabito è la storia dell'andrangheta che ha legato il passato il presente e il futuro dell'andrangheta come la conosciamo oggi bene questo video termina qui grazie di avermi seguito fino alla fine prima di dirci un'ultima curiosità su diradritto ti prego di iscriverti al mio canale è gratis e mi aiuti a crescere e a portare sempre nuovi contenuti Giuseppe Morabito diradritto di africo è il nonno dell'ex calciatore di Genova e Lazio sculli lasciami un bel like al video e a presto con un nuovo video